Il Requiem di Mozart all'interno della Basilica di San Francesco con la leggenda della Veracroce alle spalle. Insomma, sarà uno spettacolo veramente bello e suggestivo. Sì, sarà sicuramente una grande emozione potersi esibire ai piedi di questo capolavoro. Quindi saranno il capolavoro della leggenda della Veracroce e il capolavoro del Requiem di Mozart. Saremo 150 tra orchestrali, coristi e solisti. Quindi sì, sarà uno spettacolo sicuramente di grande suggestione. Un'occasione che la città di Arezzo ha colto subito al volo. Ha colto davvero in maniera, con un entusiasmo incredibile. Tant'è che purtroppo per gli aretini dobbiamo dire che i posti disponibili sono esauriti per l'accesso a San Francesco. Chi volesse può venire il giorno successivo a Sochi, all'Auditorium Beretta Rossa, dove replicheremo alle 17.30 lo stesso spettacolo. Quindi domenica 2 dicembre c'è questa replica. Esatto. A Sochi, che tra l'altro è una location bellissima, che l'Auditorium Beretta Rossa era una chiesa, la vecchia chiesa, che è stata restaurata in maniera veramente splendida. Insomma, state tracciando un cammino importante con questa orchestra. Noi siamo molto felici perché sentiamo veramente il calore della città. Appunto questa risposta a questo Requiem di Mozart è stata veramente incredibile. Evidentemente la città ha voglia di sostenere i musicisti aretini.